Vieni, vieni, vieni pure avanti, non ti preoccupare, come stai? Come, 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 come stai? Spero bene dai, sei venuto qua quindi per le sopracciglia, perfetto, perfetto, adesso puoi anche appoggiare la giacca di là, non ti preoccupare, e poi ritorna qui, perfetto, allora prima di partire però devo farti qualche domanda che devo segnarmi sul computer, certe cose, domandine veloci, due, tre sono, allora prima di tutto come ti chiami? Ok, perfetto, senza la doppia giusto? Ok, ok, seconda cosa, sai che tipo di pelle hai? Nel senso sai se hai una pelle grassa, una pelle mista, una pelle secca? Se non lo sai non ti preoccupare, ok? Ah, non ti preoccupare, ok, tranquillo, 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 tranquillo. Ultima domanda, vorrei sapere quanto spesse vorresti le tue sopracciglia, se in base a come le hai adesso, che sono forse leggermente, leggermente spesse, a sottiarle di poco, di un po' di più, come piace a te. Ok. Un po' diciamo la, lo spessore normale, per quanto possa essere normale, certo, certo, non ti preoccupare. Perfetto, quindi adesso non devo farti più domande, posso subito partire col lavoro, perciò mi avvicinarò un po' a te ogni tanto, quindi tu non preoccuparti. Adesso, allora, tirati bene indietro i capelli, non hai dei capelli eccessivamente lunghi, perciò non ho bisogno di darti fasce o pinze per tenerli indietro, perciò tu comunque spostali un attimino indietro in modo che mi liberi questa parte del corpo. Perfetto, perfetto, così. Allora, prima di cominciare però, mi sanifico un po' le mani, non che non siano pulite. Anche tutti gli strumenti che utilizzerò sono disinfettati, però per precauzione lo faccio. Ok. Solo un attimino per essere più sicuri, visto che andrò a toccarti il viso. Perfetto. Ok, allora, fammi un attimino vedere. Ok. Allora, devo farti un'altra domanda, scusa. Questa però non va a registrata. Attualmente stai indossando sul viso del trucco, soprattutto in questa zona. Parlo quindi se hai gel, se hai matita, per le sopracciglia, qualsiasi cosa. No, non dovresti. Ok. Per sicurezza però ho portato un dischettino di cotone e farò solo. Ok. Quello lo butto via. Ok. Almeno adesso così. sono sicuro al 100% che non hai nulla sulle sopracciglia. Però, 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 ok. Fammi vedere qua. Allora, adesso farò una cosa. Ups. Prenderò questa matita. È una matita bianca, come puoi vedere. È una matita bianca. E traccerò sul tuo viso delle piccole linee che mi serviranno come linee guida per quando appunto ti andrò un attimino ad accorciare effettivamente le sopracciglia. Perciò tu guardami con uno sguardo normale. Non fare così, neanche così. normale. Ok. Allora, io tiro giusto qualche linea, così. E lo spazio qua in mezzo alle sopracciglia, vuoi che te lo lascio così come ce lo hai adesso? Oppure posso allargarlo un pochino? Spulciando un po' anche questi due punti. Ok. Va benissimo. Perciò allargo un pochino. È questione di realtà millimetri. Perciò magari neanche si nota. Però solo per essere un po' più sicure e fare le cose esattamente come vuoi tu. Ok. Perfetto. Ok. Adesso userò un altro piccolo prodotto. ovvero questo qui. Questo qui è un gel che mi andrà a fissare le sopracciglia un po' più in alto in modo che io vedrò qual è la loro effettiva lunghezza. E di conseguenza possono andare un attimino a tagliare. Ok. Allora. Come vedi è uno scovolino piccolo piccolo opposto per le sopracciglia. Allora vado anche leggermente a premere sul tuo viso. Dimmi se per caso ti faccio male. Ok. Spingo anche verso l'alto. Se è la prima volta che ti metto o ti metti o ti metto un gel sulle sopracciglia potrei sentirci un attimino strano perché sentirei proprio tirare indietro le sopracciglia. Non ti preoccupare. Lo toglieremo tra breve. Tra poco. Tra breve no. Non si dice. Adesso è arrivato il punto che con queste piccole forbicine io vado un attimino a accorciare le sopracciglia. quelle ovviamente un attimino a accorciare le sopracciglia. Quelle ovviamente un po' troppo, troppo, troppo lunghe. Allora tu guardami. Ok. Provo un po' anche di qua. Un po'. Un po' appunto i centrali qui. Fammi osservare. Ti tolgo un po'. Se ti è rimasta qualche giglia. Qualche sopracciglia sulle cuacce. Ok. Allora. Secondo me come lunghezza va bene. Adesso, diciamo, le spolgiamo un attimino ma come proprio lunghezza delle sopracciglia va bene. Non se è anche la una delle tue prime volte. Non ha senso che io vada a tagliare troppo. Si noterebbe tantissimo. Ok. Metto via. Però adesso non ti faccio stare con il gel sulle sopracciglia. Perché noi dobbiamo vederle come sono al naturale. Perciò ho qui. Del semplice struccante. E andremo quindi a rimuovere il gel che ti ho messo prima. Allora. Ho qui un secondo dischetto. Perfetto. Perfetto. Con appunto del prodotto. E adesso vado anche qua un attimino a premere un po' di più sulle tue sopracciglia. Sperando però ovviamente di non farti male Però voglio essere sicuro di rimuovere tutto il prodotto che ti ho messo È uno struccante abbastanza forte perciò non dovrei avere problemi Perfetto Ok Sembrano a posto Sì Sono davvero carine dai Adesso cosa dovrò fare Ho qui la pinzetta Per molti questo è lo step più brutto e anche doloroso Perché riconosco che se ti tiri tu le sopracciglia fa meno male Che se te le tira qualcun altro Ma non ti preoccupare Cercherò di essere il più delicato possibile Perfetto 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 3 4 5 5 10 5 5 blac 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 bl Prò, via Fatti osservare per bene Forse ancora un attimo Qua, via Qua, via Scusa se ti sto dando tanto fastidio Ho quasi finito, veramente ho quasi finito Fammi solo osservare meglio un attimo Ok Ne tolgo ancora due di qua Una alla fine Perché la fine è sempre un po' più difficile da gestire Ok, controllo adesso solo qua sotto E ho finito E vedi che questa va proprio tolta Questa va proprio tolta Di là sei a posto Quindi non devo andare a lavorare Ok A me piacciono un sacco Sono Leggermente più sottile appunto di come le avevi quando sei entrato Entrata qui Sono A me piacciono, sono carine Adesso Adesso Come ultimo Prodotto Visto che Magari La tua pelle Si è un attimino Irritata In questi punti Appunto perché sono andato Con la pinzetta A strappare I peli Ho qui questo piccolo Olietto L'ho fatto apposta Ok Ti applicherò Anche troppo Ok Allora Metto sulla mano Qualche Qualche goccia Così Assaggio un po' La zona perché Riconosco che può diventare appunto Un po' Irritata Così Ok Tu senti Bruciori Perché se senti dei bruciori Devo applicare anche un'altra cosa No Non senti bruciori Perfetto Così Così Ok Questo lo posso usare Perfetto 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 Direi che Quindi La nostra saluta di oggi è finita Il mio numero Dovresti avercelo nel caso Vuoi ritornare Basta che mi chiami Prenotiamo Tanto Più o meno le sopracciglia Cioè Non Non verrai Tra due Tra la settimana prossima A farti le sopracciglia Normalmente si viene Tra le due E le tre Massimo Quattro settimane Dopo un appuntamento E attualmente Il calendario è quasi Tutto libero Ci sono un po' Di appuntamenti Però Dovresti Riuscire a prenotare Con grande facilità Va bene Dai ti saluto Un bacio Spero di rivederti presto Dai A presto Buonanotte 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 Buonanotte